Dovete costruire delle solide basi. Ve ne posso dire alcune. Prima, dovete risparmiare. Cioè la realtà è che se voi non avete dei risparmi, non avete dei soldi in banca, sarete messi male tutta la vita. Alcuni imprenditori dicono io ho l'azienda che genera tanti soldi e vivo con i soldi dell'azienda. Ma devi continuare ad avere questa azienda, l'azienda potrebbe avere un problema. Cosa facciamo? È una cosa piuttosto brutta. State comunque lavorando tutta la vita. Poi magari avete un team di persone che lavorano male. Le responsabilità sono tante. Perciò dovete costruirvi dei risparmi. Ora si fa un gran parlare di risparmi perché c'è l'inflazione. Ok, va bene, fate quel cavolo che volete. Dovete aver via dei soldi. E nella mia scuola di pensiero non dovete aver via un cuscinetto di emergenza e basta. Questo sarà il primo livello. Quindi avete via un cuscinetto di emergenza, così almeno potete stare 3, 6, 9, 12 mesi. Non siete ricchi, non siete liberi. Siete liberi per un anno.